Io mi chiamo Ernesto Cevenini, sono un ex licenziato per rappresaglia politica e sindacale degli anni 50 e 60. Posso dire che la nostra esperienza, non solo la mia, ma quella di mezzo milione di cittadini italiani, ha dovuto subire, in quegli anni abbiamo dovuto subire il carcere, botte, il licenziamento e la fame, noi e le nostre famiglie. Quindi il nostro passato è stato un passato, dobbiamo dire, storico, culturale, che oggi bisogna rammentare ai nuovi giovani, ai bambini, ai nostri figli e nipoti, che si ricordino di noi, perché se guardano a noi avranno sempre in mente una memoria in loro di quello che hanno loro oggi, perché niente non viene da niente. Quindi noi abbiamo creato la situazione in Italia perché tutti potessero oggi avere un beneficio. Noi l'abbiamo ottenuto, abbiamo sofferto, abbiamo patito di tutto, però siamo orgogliosi di averlo fatto. Non dimenticheremo mai i nostri giovani, i nostri ragazzi, che oggi di questa storia nessuno gliel'ha ancora insegnata. Vorremmo che nelle scuole fosse anche discusso, parlato, perché lo statuto dei diritti non è venuto per niente, per nessuno, perché abbiamo 100 morti fucilati dalle palottole, morti per infarti, vedendo le lettere dei licenziamenti. Gente che si è buttata sotto un treno perché non aveva più niente da mangiare né lui né la famiglia. Non potevamo più chiedere da lavorare a nessuno perché ci mandavano via. O eravamo vecchi oppure non avevano bisogno. A 22 anni eravamo vecchi. Era il libretto di lavoro che parlava per il nostro licenziamento, per non essere assunti. Quindi molti abbiamo dovuto metterci in privato, in cooperative, sacrifici, noi e le moglie, i bambini, che mangiavamo, io in casa mia, mangiavamo con un mezzo litro di lato alla mattina e alla sera. E un po' di pane bollito in acqua perché non c'era i soldi da comprare altro. Quindi voglio dire ai giovani, guardate che questo non venga mai più. E sta solo ai giovani farlo, comprendere questo passato storico, che è una memoria che non deve essere cancellata. Ti ricordi il passato tuo quando eri in fabbrica? Cosa hai sofferto con i tuoi due licenziamenti? Tre. E poi il terzo che ti hanno poi rientrato al lavoro. Perché ti hanno fatto questo? Perché mi battevo per i miei diritti. Siccome nel 1949, avevo 15 anni, mi ricordo che cominciamo a lavorare in questa officina, eravamo in cinque ragazze e ci faceva lavorare dalle ore 7.30 alle 22 della sera. Con un'interruzione di un'ora a mezzogiorno e mezz'ora alla sera. Facendo tante ore, io mi sono confidato con le ragazze che lavoravano con me, ho detto non è giusto, facciamo tante ore che l'orario della sera non venga retribuito. Quindi ne discutemmo con il caporeparto che lui portò la nostra esigenza al datore di lavoro che con malumore accettò di pagare questa ora alla sera. Invece di mezz'ora, facevamo 20 minuti e quindi quella fu la prima vittoria che ho avuto lavorando. e avevo 15 anni. Mi disse, è certo è una brava ragazza, peccato che sia una sindacalista. Io a quel tempo non sapevo nemmeno cosa volesse dire sindacalista. Poi lavorando e poi parlando con altre persone mi indicarono la Camera del Lavoro e così è. La seconda vittoria che posso dire di aver ottenuto è la mensa, cioè non proprio una mensa, ma aveva fatto un contratto con un ristorante e noi lavoratrici potevamo andare a mangiare mezzogiorno. Quella fu la seconda vittoria. Poi cosa è successo? Dopo cinque anni abbiamo, perché lui era un piccolo artigiano e in cinque anni era diventato un grande, un grande, insomma... Una industria più grande. Sì, da 20, fra cinque donne e 15 uomini, dopo siamo diventati una cinquantina di persone e lui costruì una nuova fabbrica. Sapete questo per dire quanto poteva essere l'ignoranza e voler tenere di ridere le donne dagli uomini. Quindi fece due mense, una per gli uomini e una per le donne. Quando ci fu il contratto nazionale dei metallmeccanici, io e un'altra collega siamo andati nella mensa degli uomini, siamo stati ripresi per donne di facile costumi. Perché eravamo andati là per metterci d'accordo, per l'orario di sciopero, perché volevo per il rinnovo del contratto nazionale. Dopo il contratto nazionale, in quei cinque anni, siccome come lavoratrice ero abbastanza, lavoravo con coscienza, mi aveva messo responsabile del reparto, montaggio, perché facevamo i rubinetti per i motorini. Quando siamo rientrati dopo il contratto nazionale, che abbiamo fatto su opera, eccetera, lui mi tolse dal reparto. Io a quel punto emise al mio posto uno che aveva fatto il crumiero. E quello non sapeva niente, però io non feci più la caporeparto. E quindi facevo solo quello che lui mi diceva. E il lavoro non andava avanti, perché quello non sapeva niente. E non mi licenziavo per scarso rendimento. Nel tuo ultimo licenziamento, perché ne hai avuti due, il terzo che ti hanno rientrato. Perché ti hanno rientrato? Fui licenziata, quindi feci un corso di cassiera e andai a lavorare al buffet della stazione. E questa è una dita che si chiamava Cigar. I primi anni feci la tornante, sostituivo le malate, quelle che erano incinta, quelle che erano in ferie e così via. Dopo cinque anni, due miei colleghe, che erano tornanti come me, ma erano rientrati dopo, le avevano fatte assumere. E io mi lamentai, come non ho diritto io dopo cinque anni? E lui mi disse, ti va bene così, se no stai a casa. Allora a quel punto gli feci un'avvertenza. Feci un'avvertenza e grazie all'articolo 18 io sono stata riammessa e dopo sono stata per 15 anni a lavorare in questo posto. Cosa vuoi dire adesso ai nuovi giovani che abbiamo qui? Ai giovani di oggi devo dire così che il dovere, ma soprattutto avere i nostri diritti, di essere onesti e di batterci perché i nostri diritti vengano salvaguardati. Quello che io vi domando è che un ragazzino, un giovane, si può domandare ma chi ve l'ha fatto fare? Perché è successo tutto questo? Prima non c'era, dopo avete voluto i diritti che non avevate prima, nei ventenni non c'era. Che cosa è successo in mezzo? Ecco, io penso che per capire che cosa sono state quelle lotte bisogna capire che cosa è successo in mezzo. E in mezzo è successo questo. È finita la guerra, c'è stata la resistenza, è caduto il fascismo e tutto questo aveva creato una grande speranza per tutti gli italiani, anche per quegli italiani che erano la grande masse dei lavoratori, che per vent'anni e anche prima erano sempre stati messi da parte. Questa idea che l'eguaglianza doveva essere prima di tutto l'eguaglianza nella dignità e nel diritto di vivere e di avere un lavoro e di poter mantenere la famiglia senza vergogna. Ecco, quello che ha spinto questi uomini e queste donne è stato questo. È stata l'idea che la Repubblica doveva essere diversa dalla monarchia, prima di tutto perché la Repubblica doveva includere tutti e i bisogni di tutte le categorie, anche quelle delle categorie dei lavoratori, anche dei più poveri. E qui nasce la lotta per i diritti. La Costituzione ci diceva, è stata scritta così, il primo articolo dice che è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il che vuol dire che il lavoro è lo strumento che dà dignità sociale alle persone. Ecco, loro volevano solo, hanno voluto e ci hanno messo vent'anni, però alla fine ci siamo riusciti, hanno voluto che quella Costituzione scritta così diventasse la Costituzione materiale dell'Italia, cioè fosse realizzata davvero, tutto lì. Com'è che hai deciso, proprio solo la storia, com'è che hai deciso, hai accettato di fare la delegata, ti sei spesa su questa cosa qua, cioè nel fare il sindacato nel luogo di lavoro? Io sono Monica Tagliati, lavoro presso un supermercato GS in sede Bazzano, faccio dalla delegata da tanti anni, perché appunto si ritengo che i diritti bisogna comunque conquistarseli. E per sapere appunto quali sono i nostri diritti e per sapere in quale direzione bisogna andare, ascoltare chi prima di noi ha vissuto i drammi e ha fatto esperienze di vita comunque tragiche, come vediamo oggi appunto hanno fatto le persone che ci hanno invitato. E spero che ci sia appunto un futuro di doveri, ma soprattutto di diritti. E i diritti, bisognerà lottare per i diritti, bisognerà conquistarseli, bisognerà comunque metterci ognuno del proprio e ognuno bisognerà che ragionerà nella maniera più consona e soprattutto bisognerà che i giovani comincino a lottare e a fare in modo che il futuro sia più roseo. Sono Durandi della segreteria dei licenziati di rappresaglia di Torino, ora associazione nazionale che raggruppa le varie segreterie sparse in Italia, dei lavoratori licenziati per rappresaglia politico-sindacale e religiosa degli anni 50 e 60. Abbiamo avuto la prima apertura di questa legge nel 1974 con la legge 36 del 15 febbraio 1974 e successivamente una seconda riapertura nel 1980. Dopodiché siamo riusciti, iniziando dal 1987 arrivando al 2000, essere precisi, una seconda riapertura che ha interessato ancora 2500 lavoratori che erano rimasti esclusi dai benefici della legge 36, in particolare per quanto riguarda le assicurazioni. Ora si sta lavorando, sperando, nella possibilità di un governo di centro-sinistra per poter riaprire questa legge in base alle nuove normative che sono subentrate e che corrispondono a un numero di lavoratori in particolar modo della zona di Prato-Vaiano che sono rimasti esclusi per motivi vari o per non aver saputo a tempo cosa era successo nella legge 36 e si spera di portarla a termine. Questo patrimonio dei licenziati per rappresaglia di tutta Italia per i motivi politici e sindacali dovrebbe non essere disperso in quanto i nuovi lavoratori che sono subentrati a noi che ormai i più giovani di noi hanno già un'età molto avanzata diciamo oltre i 70 anni ovviamente per portare avanti questo grosso bagaglio culturale, politico di rivendicazioni che sono arrivate con la legge 36. Se questa cosa si riuscirà a portare avanti vorrà dire che abbiamo lasciato dietro di noi una traccia importante per il lavoro futuro. Grazie. Sono Antonio Pizzinato ex operaio e componente della Commissione Interna dell'Officina Borletti di Milano poi responsabile dei metallomeccanici di Sesto San Giovanni e Milano segretario nazionale della CGL Parlamento alla Camera dei Deputati e poi al Senato nell'undicesima, tredicesima e quattordicesima legislatura La lotta per tradurre in norme concrete e quindi far vivere i diritti del lavoro i diritti sociali all'interno delle fabbriche dei luoghi di lavoro ha visto impegnati i lavoratori italiani per oltre un ventennio dopo l'approvazione della Costituzione a partire dal 1948 si sono via via accentuate le discriminazioni politico-sindacale furono cacciati dai corpi di pubblica sicurezza dall'esercito dalle amministrazioni pubbliche gli ex partigiani e nelle fabbriche si incominciarono a fare licenziamenti per rappresaglia politico-sindacale degli attivisti di coloro che erano impegnati sul piano sindacale e sul piano politico diecine e diecine di migliaia furono licenziati nelle grandi aziende si realizzarono i reparti confino dove si relegavano operai impiegati di alte capacità professionali in quei reparti unicamente per il fatto che trattavasi di militanti sindacali e politici che volevano far vivere la Costituzione nelle fabbriche si può calcolare che nel ventennio degli oltre 450.000 licenziati fra i 35 e i 50.000 sono stati licenziati per rappresaglia politico-sindacale assieme alle lotte per ricostruire l'Italia per rilanciare l'economia far aumentare l'occupazione con il piano del lavoro l'occupazione delle terre la riforma agraria lo sviluppo tecnologico e la costruzione dopo il fascismo dei contratti nazionali di lavoro e la contrattazione articolata ci si pose l'obiettivo da parte della CGL a partire dal congresso di Napoli di conquistare la fine dei licenziamenti ad nutu e cioè ad un cenno e conquistare la giusta causa che avvenne negli anni nella seconda metà degli anni 60 poi con le lotte sociali e contratuali dell'autunno caldo si conquistò 30 maggio del 1970 la legge 300 lo statuto dei diritti dei lavoratori e finalmente la costituzione i diritti in essa implementati che erano figli degli sciopri del marzo 43-44 della lotta di liberazione entravano entro le mura delle fabbriche alla luce di questi risultati iniziò una lotta che portò nel 1974 alla conquista della legge 36 che riconosceva che vi era stato dei licenziamenti per appresaglia politico-sindacale e prevedeva un risarcimento di questa violazione dei diritti come la ricostruzione delle posizioni previdenziali con i vari allargamenti dei periodi in cui si è potuto presentare le domande sono oltre 35.000 i lavoratori che hanno ottenuto questo riconoscimento però negli anni e nei decenni non vi era da parte del governo la disponibilità a riconoscere le stesse normative per quanto riguarda i pubblici dipendenti licenziati per la presaglia oppure a cui non si era rinnovato il contratto oppure agli agenti di pubblica sicurezza ai militari espulsi dai loro corpi semplicemente perché ex partigiani solo nel febbraio del 2001 si è conquistato la legge 30 del 2001 che ha esteso il diritto alla ricostruzione previdenziale dei licenziati per la presaglia politico-sindacale nelle pubbliche amministrazioni e benché fossero trascorsi oltre 50 anni da questi avvenimenti sono state oltre mille le domande presentate alcune diecine delle quali ancora non si è esaurito l'esame ma che sta ad indicare come lo Stato finalmente seppur dopo mezzo secolo ha riconosciuto ha riconosciuto che le sue amministrazioni il governo avevano violato i diritti costituzionali avevano arbitrariamente licenziato dei lavoratori solamente per motivi politico-sindacali o religiosi e quindi si è consentito la ricostruzione in altre parole seppur dopo mezzo secolo finalmente lo Stato della Repubblica italiana fondata sul lavoro ha riconosciuto che vi erano state le violazioni dei diritti più elementari che è il diritto al lavoro di coloro che avevano combattuto per riconquistare la libertà e la democrazia nel nostro Paese e poi per ricostruire il Paese e rendere viva e radicata la democrazia oltre che nel Paese all'interno dei luoghi di lavoro e questo un insegnamento per le nuove generazioni a consolidare i diritti sociali e del lavoro come diritti di cittadinanza affinché la democrazia abbia uno sviluppo che significa anche democrazia libertà di esprimere le proprie convinzioni politiche sociali e battersi per la loro realizzazione oltre che la loro realizzazione masse